Oggi nelle scuole di polizia di Brescia, Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spoleto, Trieste e Vibo Valencia hanno giurato fedeltà alla Repubblica agli agenti in prova del 223esimo corso. In tutto 1902 neoagenti che già da lunedì prenderanno servizio nelle varie sedi assegnate. Di questi 183 hanno prestato giuramento presso la scuola agenti di polizia Andrea Campagna di Vibo Valencia sotto l'amorevole sguardo di centinaio di parenti che sono giunti da tutto il meridione per assistere a questo evento. Malgrado l'incessante pioggia tutto si è svolto secondo le previsioni, con lo schieramento che è rimasto impassibile fino allo sciogliette le righe allorquando si è elevato il grido liberatorio che ha portato al tradizionale lancio in area dei berretti, seguito da bracci e in qualche caso anche da lacrime di gioia. L'intera cerimonia è stata scandita da un rigoroso cerimoniale che quest'anno prevedeva anche il discorso in diretta del capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, che da Brescia è stato trasmesso in tutte le altre scuole, fermo restando che ogni questura, nel cui territorio assiede una scuola agenti, ha mandato in diretta a Facebook sulla propria pagina l'intera cerimonia, che la vedeva coinvolta direttamente. Un modo per permettere anche a chi non avesse potuto raggiungere le scuole di presenza avrebbe pur tutto lo stesso assistervi anche da remoto.